Un utrito cartellone di appuntamenti estivi che invia di composizione quello che caratterizzerà l'estate della Civitella. La Civitella che riapre battenti dopo qualche anno, non solo con spettacoli ma anche con la discoteca. Sì esattamente, ho voluto promuovere assieme unitamente alla deputazione teatrale del Marrucino, quindi ringrazio i suoi vertici, il presidente Angeloni e il direttore Di Martino, questa convenzione, questo accordo pluriannale che avrà la validità di tre anni con la direzione regionale dei musei che davvero in maniera sentita voglio ringraziare per promuovere tutto il parco archeologico della Civitella sia per quanto riguarda l'ostellario e quindi l'intrattenimento e sia per quanto riguarda i concerti che si terranno all'arena. Inizieremo con l'ostellario, lo avete già sentito, in questi giorni l'11 giugno ci sarà un DJ di carattere internazionale, DJ Harvey e poi nel mese di luglio e nel mese di agosto ci saranno altrettanti parimenti DJ molto molto importanti. Per quanto riguarda l'arena, la programmazione dell'arena si partirà subito a luglio con il Don Giovanni, un'opera lirica molto importante che appunto sarà promossa dalla deputazione teatrale del Marrucino e poi grandi nomi del panorama della musica italiana e non solo internazionale come Venditti e De Gregori per questo tour unico nel suo genere che si terrà quest'estate ma ancora il cabarettista Maurizio Battista, ma ancora LP, una data di un artista internazionale, ma ancora stiamo lavorando per davvero a grandissimi nomi che possano portare nuova linfa al turismo, alla cultura e soprattutto all'economia della nostra città per quanto riguarda la stagione estiva. Grazie.